distesa ondeggiante di verdi colline coltivate a vigneti che si specchiano nelle acque del lago di seo oasi naturale accarezzata da un clima mite e temperato tutto l'anno che la rende ideale per soggiorni di vero relaxa terra ricca di una tradizione agricola che risale al medioevo quando i monaci ottennero l'affrancamento dai tributi in cambio dell'impegno a diffondere la coltivazione della vite oggi simbolo della sua vocazione imprenditoriale è la francia corta un piccolo lembo di terra in provincia di brescia nel cuore della lombardia a meno di 40 minuti da milano che abbraccia 19 comuni ed ha il suo centro pulsante in erbusco un paesaggio unico in cui si mescolano gusti e sapori autentici frutto di una natura dolce e generosa lavorata con passione dai suoi abitanti alla base sta come detto una storia costruita sulla tradizione l'utilizzo del metodo delle antiche presse marmonie per la sprimitura dell'uva e il quotidiano rituale del remuage a mano sotto le suggestive volte della cantina grazie a tutti